Inizieranno il 2 di gennaio e si concluderanno mercoledì 15 marzo i saldi invernali 2017 per la Sicilia. L'informazione giunge dal Confcommercio di Caltanissetta e dal sindacato provinciale di Federmoda Italiana. Ci auguriamo che la pille del logo Saldi susciti ancora un'attrattiva nei confronti della clientela, consentendo ai negozianti di affrontare gli ultimi mesi con i giusti presupposti e completare una stagione che tra alti e bassi non è andata particolarmente bene. Così dicono Massimo Mancuso e Angelo Pio Cammalleri, rispettivamente presidente provinciale di Confcommercio e presidente di Federazione Moda Italia. Suggeriamo alla clientela di sostenere per quanto più possibile i negozi sotto casa, le produzioni locali e il made in Italy secondo un principio responsabile e consapevole di sostegno alla nostra economia. Confcommercio, Caltanissetta e la sezione provinciale di Federmoda Italia hanno elaborato un vademecum per tutti i consumatori che potrebbero essere alle prese con la merce in sconto, quando cambiarla, in che modo e rispettando quali regole per il corretto acquisto degli articoli in saldo. Confcommercio e Federmoda Italiana danno alcuni consigli per i principi di base. I prodotti in vendita e di capi esposti nel periodo dei saldi devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di depreciamento se non venduti entro un determinato periodo di tempo. La pubblicità dei prezzi, ovviamente l'operatore commerciale su tutti gli articoli posti in saldo deve mettere il prezzo iniziale, lo sconto in percentuale e poi il prezzo finale. Le carte di credito durante i saldi possono essere accettate per il pagamento dell'abbigliamento o degli altri prodotti. La prova dei prodotti, il cliente ha il diritto a provare i capi per verificare la corrispondenza tra la taglia e il gradimento del prodotto, sono escusi dalla facoltà di prova, ovvero tutti quei capi che normalmente non si provano come la bancheria intima ed altri prodotti. La merce si può cambiare durante il periodo dei saldi, l'operatore commerciale si impegna a sostituire se possibile i capi acquistati che presenteranno vizi di difformità. Confcommercio Calteni 7 e Federmoda Italia invitano anche la clientela a segnalare eventuali episodi in contrasto con queste regole negli uffici di via Messina 69 a Caltanissetta con un numero che si può fare 0 934 21 62 6.